Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Puntata dal nome, devo dire, poetico. Il merito non è nostro, il merito è di CNA Veneto che ha lanciato questa campagna dal titolo Dove sta un pane? Può stare una parola. Sottotitolo come diventare forno di qualità. Ne parliamo con Matteo Ribon che è il vice segretario appunto di CNA Veneto, ricordiamo CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Perché in questo momento avete sentito l'esigenza di una campagna sul pane di qualità? La questione è aperta da tempo, va ricordato, e insomma sotto la lente di ingrandimento c'è soprattutto il pane venduto nei supermercati, negli ipermercati, che non è pane fresco come si usa dire, spesso e volentieri è pane surgelato che viene rigenerato, se non sbaglio. Prego. Sì, abbiamo deciso di riprendere questo argomento perché il tema comincia ad essere molto sentito da parte dei consumatori. Per noi è importante riqualificare il concetto del pane fresco, che è stato poi oggetto di una legge regionale approvata qualche anno fa e che in questo momento è anche in discussione una legge nazionale che riguarda appunto la diversificazione tra il pane congelato e il pane invece che viene realizzato. Un po' meno semilavorato. Semilavorato, perché generalmente è un pane realizzato in periodi diversi, congelato, e che poi viene dorato a, diciamo, il loco dalla grande distribuzione. Che è completamente diverso dal pane fatto e realizzato artigianalmente all'interno delle nostre strutture, dei nostri panifici. Ecco, perché poi su questo si gioca anche lo slogan pubblicitario, insomma, spesso si legge anche nei supermercati o negli ipermercati, qui si sforna il pane tutti i giorni, il che è vero, perché in realtà il forno viene acceso. In realtà si scalda il pane tutti i giorni. Ecco, poi si gioca sul claim. Questo è un elemento un po' di inganno nei confronti del consumatore, noi non siamo per condannare una scelta consapevole da parte del consumatore. Se il consumatore sa benissimo che cosa va a comprare, il prodotto è completamente diverso rispetto a quello che trova in un panificio. Ecco, perché questo credo sia importante sottolineare, perché anche il termine qualità può dare adito a molte interpretazioni. Non è che ciò che si compra nella grande distribuzione sia un prodotto non di qualità. o che non sia evidentemente corretto per l'alimentazione. È altra cosa rispetto al pane artigianale. Sì, è per questo che noi appunto con questa campagna e anche nell'ambito di questa iniziativa che è stata fatta qualche giorno fa, abbiamo cercato di far capire al consumatore la differenza che esiste tra un prodotto artigianale realizzato nell'arco della giornata o comunque tra la sera e la mattina e presentato al cliente in un determinato modo rispetto al prodotto invece che si trova nella grande distribuzione. Qual è la questione più importante? La questione è che una volta che il consumatore viene reso consapevole di questa differenza, è disposto a pagare qualcosina di più, è disposto a comprare il prodotto artigianale e in qualche maniera perché sa che il prodotto non dura dalla mattina alla sera perché comunque sia può riutilizzarlo anche il giorno seguente e essere consumato come fresco anche in una durata più lunga. Qui l'associazione è semplice, però bisogna saperlo fare bene il pane, perché non è che scrivere pane artigianale sia sinonimo evidentemente di alta gamma, bisogna saperlo fare bene. Certo, ed è per questo che c'è sempre di più una tendenza a lavorare su tutta la tracciabilità della filiera. Noi in questa iniziativa abbiamo coinvolto alcuni personaggi di spicco, tra cui dei mulini importanti, per mettere in evidenza qual è il percorso di trasparenza e di qualche maniera prodotto di qualità che può essere realizzato in tutto l'arco della filiera, cioè dalla farina fino ad arrivare al prodotto finito. Addirittura, in un'esperienza molto interessante che è stata presentata, partiamo dalla materia prima, per cui insomma dalla parte agricola fino ad arrivare al prodotto finito. Questa modalità qui rende dotto il consumatore di una differenza sostanziale tra un prodotto trasparente e un prodotto invece che ha delle caratteristiche completamente diverse. Ecco, c'è una tradizione veneta del pane? Sì, c'è una tradizione veneta, ci sono dei prodotti che sono tipicamente veneti, possiamo pensare al Montasù, alla Mantovanina, pan biscotto per far capire al pubblico di che cosa stiamo parlando e sono dei prodotti che sono tipicamente veneti. In più abbiamo anche una tradizione storica che viene dalla Repubblica Serenissima e da quanto l'arte del panificare e l'arte dei fornai o del fornero insomma era un'arte molto importante all'interno dei mestieri e veniva normata in maniera molto molto precisa. Le prime normative stringenti sull'uso della farina, dei locali, delle modalità insomma anche di lavorazione erano proprio derivanti da delle disposizioni che la Repubblica Serenissima dava. E da lì è arrivata una tradizione sull'arte della panificazione, sull'arte di utilizzo delle farine, sull'arte dell'utilizzo degli additivi che in qualche maniera devono essere completamente naturali e non prodotti nel corso degli anni che hanno caratteristiche diciamo non naturali. Arriviamo alla seconda parte del titolo della vostra campagna, come diventare forno di qualità. Eh, come si fa? Allora qui... Voi artigiani siete specializzati negli slogan e nelle vetrofanie, però insomma bisogna che ci sia sostanza dietro. Sì, qui in questo caso è stata fatta un'operazione assieme alla Regione del Veneto per costruire un marchio di qualità. Qual è la differenza sostanziale? La differenza sostanziale è che per arrivare a realizzare questo forno di qualità bisogna sottostare un disciplinare che questa volta non viene controllato da un soggetto che non ha nessuna competenza, ma viene controllato da un gruppo di lavoro composto da panificatori che svolgono un'attività di controllo non finalizzata da repressione, perché si tratta di un marchio volontario, ma finalizzata da aiutare i colleghi a scegliere olio extravergine di oliva, scegliere gli additivi esclusivamente naturali, le farine di qualità, in modo che si possa realizzare un prodotto veramente di standard qualitativi diversi. La differenza sostanziale sta qui non tanto nella vetrofania o nel marchietto che viene rilasciato dalla Regione del Veno, ma quanto nel sistema di controllo e di certificazione che è supportato appunto da persone che sono molto competenti in materia, che fanno lo stesso lavoro e che quindi in qualche maniera sono anche in grado di dare dei suggerimenti sulla gestione e sulla realizzazione del prodotto. Contestualmente a questo sforzo di qualità c'è anche una sorta di lotta all'abusivismo? Intendo dire all'abusivismo sulla qualità, perché in effetti ci sono alcuni panificatori che probabilmente il semilavorato lo comprano. Sì, e qui sta appunto la sfida più grande, cioè far capire, perché l'errore può essere fatto anche, io dico, dalle aziende che hanno una matrice artigianale. Per servire la grande distribuzione, per facilitare una serie di cose, possono essere tentati a comprare un prodotto semilavorato. Qui c'è la campagna contro l'abusivismo, è una campagna educativa. Lo sappiamo benissimo che andare contro le multinazionali è una battaglia difficilmente... Davide contro odio. Sì, possiamo vincere, che possiamo vincere. Quello che possiamo fare noi è lavorare su un prodotto trasparente e fare in modo che venga comunicato al consumatore in maniera molto chiara e in qualche maniera anche con forza. Tenendo conto che in questo periodo il consumatore non solo è consumatore, ma sta cercando anche di avvicinarsi agli ambiti della produzione. Sono molte le persone che si appassionano nel realizzare il pane in casa, di realizzare dei prodotti panificati in casa e questo è un elemento che aiuta la consapevolezza. Ci dicono i nostri panificatori che molto spesso vengono avvicinati dal consumatore per avere dei suggerimenti tecnici, per avere il lievito madre, per cercare in qualche maniera di avvicinarsi all'uso del prodotto in un modo completamente diverso. Questo per noi è un valore e noi stiamo lavorando su questo per diversificarci rispetto all'abusivismo. Non è chiaro che combattiamo tutte quelle diciture, tutte quelle modalità che traggono in inganno il consumatore e per noi squalificano la partita rispetto a una sana concorrenza. Ecco perché secondo me i valori su cui poter incidere sono ovviamente la tradizione, la valorizzazione dell'economia del territorio, la provenienza delle materie prime perché oggettivamente rispetto a qualche anno fa si poteva fare anche un ragionamento sul gusto. Oggi, diciamocelo francamente, anche quello che si compra al supermercato, è un pane che ha un buon gusto, quindi bisogna trovare degli altri elementi. È un po' come i cinesi, una volta facevano le brutte copie, adesso onestamente sanno anche copiare bene e quindi bisogna lavorare su altri elementi. Ma tornando a un'immagine un pochino romantica, probabilmente è il motivo per cui magari alcuni panificatori si rivolgono ai semi lavorati e anche perché sono stufi di alzarsi alle due del mattino. E per dire, ci sono ancora giovani che hanno voglia di avvicinarsi a questa professione? Ci sono, infatti sono sempre pochi, molto probabilmente sono o legati da un legame familiare oppure, per cui diciamo c'è una trasmissione di impresa. È un lavoro pesante che conosco bene perché ho avuto la fortuna di avere, insomma ho un papà che ha fatto il panificatore per 40 anni, per cui so benissimo di cosa parliamo. Ci gioco in casa. Ci gioco in casa. È un lavoro difficile, però credo che abbia ancora uno spazio importante e c'è un'attenzione particolare soprattutto anche da nuove generazioni che non sono di nazionalità italiana perché comunque si appassionano a tutto il mondo dei panificati. Lo vediamo nella pizza, lo vediamo nella lavorazione del pane, lo vediamo nella lavorazione dei dolci e si tratta di un mondo che fa parte della nostra tradizione che purtroppo i giovani fanno difficoltà a percepire come un ambito di sbocco, un ambito professionale, mentre diventa molto appetibile, vediamo le scuole, vediamo anche gli apprendisti che vengono assunti all'interno delle aziende da ragazzi che non sono di nazionalità italiana e che hanno la passione di avvicinarsi a questa tradizione anche per assaporare un pezzo di italianità. Non dimentichiamoci che questo è uno degli elementi forti e importanti del Made in Italy, quindi dobbiamo continuare a preservarlo a prescindere da chi si avvicina a questo mondo ma dobbiamo continuare a mantenerlo. È difficile alzarsi le due della mattina, però la soddisfazione di avere un prodotto fresco, realizzato con uno standard di qualità elevato, a volte ripaga molto di più che stare davanti a un computer e schiacciare il pulsante tutto il giorno. Lo dico con sapevolezza, nel senso che so quanto impegnativo può essere, ma è un elemento anche che eleva la cultura del lavoratore, di chi realizza il prodotto. Grazie a Matteo Ribon, che è il vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, dove sta un pane può stare una parola, devo dire slogan molto bello, per questa campagna a sostegno della panificazione di qualità artigianale. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a tutti.